Una scelta assurda sia da un punto di vista tecnico, perché intervenire su una popolazione è questione molto complessa, che non può essere demandata soltanto ai fucili. La delegata WWF Abruzzo Filomenarici denuncia l'abbattimento di quasi 500 cervi da parte della Giunta regionale, decisione presa grazie ad una delibera dell'8 agosto scorso. Il prelievo selettivo, così come viene chiamato tecnicamente il provvedimento, sarà effettuato a partire da 14 ottobre da cacciatori abilitati e avverrà in due aree dell'Abruzzo Aquilano, al di fuori delle aree protette e della zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Come giustificazione dell'intervento, i danni all'agricoltura e gli incidenti stradali che possono provocare questi animali, motivazioni che però non convincono il WWF. Si possono creare delle barriere, dei dissuasori che possono essere acustici, sonori, repellenti olfattivi per i cervi, per evitare i danni all'agricoltura, ma anche intervenire sulle strade con delle barriere, potenziando i sottopassi, costruendo perché no degli ecodotti. Quindi le soluzioni ci sono e non abbiamo visto metterle in campo nella regione Abruzzo se non con qualche sporadico intervento fatto per lo più dalle aree protette. Farete ricorso, è percorribile oppure ci sono altre strade? Valuteremo con i nostri uffici tecnici e con i nostri uffici legali tutte le strade percorribili. Sicuramente c'è molto da dire su come sono stati fatti i monitoraggi per arrivare anche al numero di cervi che si prevede di abbattere e anche tutte le procedure legali. Quindi valuteremo ogni strada per proteggere questi animali che sono un po' l'emblema, il simbolo dell'Abruzzo, della sua natura selvatica per la quale siamo conosciuti anche all'esterno. Sulla presenza dei cervi molti paesi dell'Abruzzo interno hanno costruito anche la loro fortuna turistica, possiamo dire così, ma sono animali che ci toccano molto anche sul piano emotivo, non solo su quello tecnico, perché sono un bene comune, sono patrimonio di tutti e non può essere che la Regione per accontentare una piccola fetta di cacciatori, perché di questo si tratta di un regalo ai cacciatori, ne decreti la morte.